La rosa, lo ride sempre, è a forma tonda, ma chi è? Ma cos'è? Il cubazzo di neve viene ogni anno, più o meno a capodanno e con la fantasia ci tiene in compagnia, siamo pazzi di neve, non è un mago, però può sparire, non è un gioco, ma sa divertire. Il cubazzo di neve viene ogni anno, più o meno, 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 più o meno. Ma cos'è? Il cubazzo di neve viene ogni anno, più o meno, più o meno, più o meno, più o meno, più o meno.